Riparte la festa del mare, quest'anno però ha voluto un sapore diverso, un sapore mediterraneo perché siamo riusciti attraverso la cultura, attraverso l'università che finalmente siamo riusciti a dargli l'importanza dovuta a creare questo momento di incontro. Allora quest'anno potremo parlare di un fenomeno nuovo, parleremo di cultura, con la U, biologica. Noi siamo abituati a sentire parlare della cultura biologica, noi invece parleremo di cultura biologica. La cultura biologica significa che Reggio Canabria sarà un incubatore di un fenomeno di ibridizzazione della cultura cioè verranno qui, convergeranno nella nostra terra 30 etnie diverse, culturalmente parlando, 30 università diverse che all'uscita da questa festa verranno fuori con un bagagno culturale ibridizzato cioè con la loro cultura più quella di altri 29 paesi. Immagini che cosa ne verrà fuori, una vera e propria forma di interscambio. Non abbiamo inventato niente di nuovo perché la biologia ci ha insegnato questo che si chiama ibridizzazione, che si chiama crossing over, cioè è quel fenomeno secondo il quale lei non somiglia totalmente o non è la fotocopia di sua mamma e di suo padre ma è una forma intermedia tra sua mamma, suo padre, suo nonno e suo zio. Perché i cromosomi si scambiano una parte. Qui le culture si scambieranno una parte. Uno entra bianco e l'altro grigio, usciranno tutti e due a bande bianche e grigie. È un fenomeno bellissimo, non le pare? Assolutamente sì. Quindi a me questa cosa mi è piaciuta particolarmente. Rubata alla biologia però ci sta e proprio calza perfettamente a quello che avverrà. Però ricordiamo che la festa del mare è sicuramente questa volta un momento di incontro, di culture. Però è anche sport e anche si parlerà di Mediterraneo, si parlerà di città metropolitana, si parlerà anche di tanto altro, è un bel contenitore. Diciamo che è a 360 gradi più IVA per cui diventerà una cosa incredibile. Cioè si parlerà di tutto lo scibile, si parlerà di cultura. La cultura non è né la scienza degli iniziati, né la scienza di quelli che hanno la puzzolotto il naso, è la scienza del popolo, è la scienza della conoscenza di ogni cosa. Dalla città metropolitana che stenta a partire nel cervello della gente, non nei fatti. Perché Reggio e Messina si sono già metropolizzate, si sono già quasi conurbate di fatto. Quanta gente di Messina lavora a Reggio e viceversa? Quanti di noi hanno studiato a Messina oggi? Quanta gente di Messina studia a Reggio? Cioè questa forma di conurbazione è nei fatti, manca purtroppo nel cervello della gente. Cioè non lo crediamo tale. Forse questo tipo di manifestazione, la festa del mare, contribuirà notevolmente a modificare questo modo di pensare.